Sino a pochi mesi fa veniva utilizzato come orinatoio a cielo aperto, meta di ragazzi in preda ad urgenti bisogni fisiologici. Adesso è diventato un salottino colorato di verde nel cuore del centro storico di Andria. Il merito è di un cittadino che di sua iniziativa e a proprie spese ha deciso di trasformare una strada abbandonata all'incuria in un meraviglioso giardino urbano. Siamo in primo vicolo casalino a due passi da piazza Catuma e palazzo Ducale. Qui un giovane residente Antonio Vilella stanco della sporcizia che da tempo regnava incontrastata davanti casa sua e dopo aver denunciato più volte all'amministrazione comunale problemi di degrado e di scarichi fognari che tuttavia ci sono ancora, si è rimboccato le maniche per rendere bello ciò che era brutto. È nata così durante i mesi del lockdown una viuzza di pochi metri ma redata a regola d'arte. Fiori e piantine decorano l'intero vialetto, fiaschi di vetro e vecchie biciclette appese ai muri diventano complementi d'arredo. Una serie di lucine fanno da cornice anche ad un'immagine della Madonna e a completare l'opera mensole, scaffali, sedie e un tavolo di legno. C'è addirittura una panchina realizzata come tutto il resto con materiali rigorosamente riciclati. E di persone a quanto pare negli ultimi tempi se ne sono sedute parecchie ci ha raccontato Antonio. Residenti, curiosi, gente di passaggio. Scattano foto, arrivano da altre zone della città per ammirare questo piccolo angolo di paradiso venuto fuori dal grigiore e dal degrado dove nessuno si ferma più a liberarsi la vescica.